Esotica Pet Show raddoppia gli spazi e torna a Vicenza Fiere il 29 e 30 ottobre. Fiera Nazionale degli Animali Esotici e da Compagnia, 10.000 metri quadrati, spettacoli, dimostrazioni, concorsi e tanto divertimento per conoscere da vicino ed imparare a prendersi cura dei nostri migliori amici. Se ami gli animali sei nel posto giusto. Ricordi, Esotica ti aspetta a Vicenza Fiere il 29 e 30 ottobre.